ciao ragazzi bentrovati a questo nuovo video oggi parliamo ancora di sabbichi e precisamente volevo fare questo video per un nostro iscritto Lorenzo Brizzi che ci aveva chiesto la funzionità dei sabbichi artigianali con materiale trovato in casa che abbiamo realizzato come tutorial precedentemente vediamo un po' come è andata la prova in pesca ciao ragazzi alla prossima allora marcatura vediamo un po' di riuscire a beccare qualche altra esca molto interessante devo dire sto pescando con i sabbichi realizzati a casa che ho fatto vedere il tutorial nell'altro video ed eccoli qua sì eccolo qua eccoli qua due sudarelli aniva altra esca un po' di riuscire a beccare oh oh rose o o Ah! Questa volta a carico! Buon Natale a tutti! Sono uno, due, tre, quattro, cinque e adesso possiamo andare a trainare!